Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi prima video lezione dedicata alla letteratura di quarta. Oggi parleremo di un contesto storico, il barocco. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Quando noi parliamo di barocco dobbiamo subito pensare a uno stile che si sviluppa intorno al XVII secolo, quindi al 600. Il 600 è un secolo di grandi scoperte, scoperte astronomiche ma anche assolutismi e anche il secolo della controriforma. Oltre che della grande crisi del 600. Diamo alcuni puntelli, quindi alcune date a cui aggrapparci per capire un po' il contesto. Come vi ho detto anche parlando del medioevo, queste date sono arbitrarie. Canonicamente possiamo dire che dal 1545 al 1610 abbiamo la fase che precede il barocco, che viene detta manierismo. Quindi quel periodo nel quale si imita la maniera dei grandi artisti, dei grandi classici. Abbiamo poi dal 1610 al 1690 quel periodo che conosciamo come il barocco. Segue al barocco il momento dell'arcadia e del rococò, che inizia la fine del 600 e termina nel 1748. Il barocco 1610 è una data importante per quanto riguarda la produzione letteraria di Galileo Galilei e 1690 la data nella quale viene fondata l'Accademia dell'Arcadia. Pensiamo ora però al secolo del barocco, quindi al 600. Il 600 è un secolo di conflitti, di trasformazioni. È quel secolo che ricordiamo come il secolo della crisi. Secolo di cui avrete già parlato durante il Bienio. Quando avrete letto Manzoni avrete parlato per esempio della peste del 1630. È anche il secolo della guerra dei trent'anni. Quindi dal 1618 al 1648 con la pace di Vestfalia si conclude questa lunga guerra. Guerra che vedrà contrapporsi l'impero sburgico, alleato con la Spagna, e le potenze nazionali, le grandi potenze. Ancora, il barocco e quindi il 600 è un secolo di grandi scoperte, ma anche di grandi repressioni, di grandi censure. Basti pensare a Galileo, basti pensare a Giordano Bruno, che viene arso a rogo il 17 febbraio del 1600 presso Campo dei Fiori. Inoltre, nel 600 viene scoperto un nuovo universo. E tutto questo secolo è caratterizzato da un senso di innovazione, ma anche da un disorientamento dell'uomo. Infatti, l'età del barocco è anche ricordata come l'età della scienza nuova. Durante il barocco noi proviamo questa sensazione di stupore e di meraviglia. Questo stupore e questa meraviglia si ritrovano nelle grandi opere, anche artistiche, oltre che letterarie, che si trovano in Italia, in Europa e addirittura in America Latina. Vi faccio vedere qui varie espressioni dell'arte barocca, perché quando noi pensiamo al barocco dobbiamo pensare anche all'arte. E quindi vediamo la fontana dei quattro fiumi del Bernini. Bernini, grande scultore, che esprime proprio questo stupore, questa meraviglia del barocco. La piazza di San Pietro, rappresentata in questa litografia, che ci fa subito pensare al barocco come al secolo degli effetti speciali. Infatti il barocco, come vi dicevo, nasce come sviluppo del manierismo, quello stile raffinato, la maniera degli artisti che si era affermato nel corso del Rinascimento. L'armonia, dunque, dell'arte rinascimentale viene poi abbandonata. Come vi dicevo, i manieristi imitano, imitano i grandi maestri del Rinascimento. Infatti il termine manierismo rimanda proprio alla maniera, ed è stato usato per la prima volta da Giorgio Vasari, l'autore delle vite dei più grandi, più eccellenti pittori. Lo stile manierista, infatti, imita Leonardo, Raffaello, Michelangelo, quei grandi che hanno raggiunto il massimo grado di perfezione. Quindi il genio del passato viene imitato. Tuttavia nel barocco, invece, troviamo un cambiamento. E rimaniamo a bocca aperta guardando le meraviglie, per esempio, che troviamo a Palazzo Tè, a Mantova, quando guardiamo i quadri di Giulio Romano e notiamo la Sala dei Giganti, esempio di arte barocca, un esempio stupefacente. Infatti il barocco è anche illusione, illusione di realtà. A forza di studiare, anche di imitare, di copiare la maniera dei grandi maestri, i pittori si esprimono con uno stile, con un linguaggio difficile per il pubblico, mentre gli artisti barocchi si rivolgono al pubblico e rappresentano l'illusione della realtà. Questa parola, barocco, a cosa vi fa pensare? Per quanto riguarda l'etimologia, forse si può pensare a barocco dal portoghese, perla irregolare, non sferica. Ma abbiamo anche altre etimologie che concorrono al barocco, questo termine, come per esempio baroque in francese, che significa bizzarro, diseguale. O ancora questo termine che richiama la filosofia scolastica, con il procedimento logico del sillogismo. Infatti il termine barocco rimanda proprio al sillogismo. Che cos'è il sillogismo? È un ragionamento logico di tipo deduttivo. Ricordiamo il sillogismo del filosofo Aristotele, nel quale noi troviamo una premessa maggiore, una premessa minore e una conclusione che viene dedotta proprio sulla base di queste due premesse. Ma perché? Cosa c'entra il sillogismo con il barocco? Perché il sillogismo è un procedimento logico che è corretto solo all'apparenza. Notate qui, tutti gli uomini sono mortali, tutti i greci sono uomini, tutti i greci sono mortali. In questo caso il sillogismo è corretto perché la premessa maggiore è corretta. Ma un nostro ragionamento potrebbe essere logico e quindi corretto nella logica anche con una premessa maggiore completamente sbagliata e fuorviante. Quindi la logicità e la validità del sillogismo è solo apparente. In realtà il sillogismo ci nasconde una debolezza interna. Durante il barocco abbiamo una nuova visione del mondo. Il barocco ha come fine il desiderio di stupire, ma è motivato anche dal fatto che in questo secolo di grandi scoperte astronomiche l'uomo perde le sue certezze e ha una nuova visione del mondo. Copernico e Galilei durante il Seicento rivelano che la Terra non è al centro dell'universo, ma è parte di un sistema. Quindi l'uomo perde quella posizione centrale che aveva assunto invece durante l'umanesimo. Nasce così lo stile barocco che guarda con una curiosità nuova alla natura. I grandi artisti del barocco sono tanti. Noi ricordiamo Annibale Carracci, il Caravaggio, Rubens. Barocco che quindi ricerca sperimentazione, illusione, stupore, finzione, meraviglia, concettismo. Ne riparleremo di questo concetto parlando del barocco in letteratura. E di eccessi. L'occhio del pittore barocco, come quello del poeta, cerca delle corrispondenze nascoste. Indaga una realtà che è in continua evoluzione. Così anche il letterato, che utilizza metafore, allegorie, per esprimere le somiglianze segrete tra le cose. Cosa fa il poeta barocco? Esaspera metafore, allegorie. Ricerca quelle più strane e inusuali. Tramite il concetto spiega le connessioni tra i campi diversi e lontani. E da loro un senso. Ci vediamo alla prossima video-lezione dedicata al barocco in letteratura. Al prossimo video! Al prossimo video!